E continuiamo il TG Mattina dando uno sguardo anche allo sport nei vari quotidiani locali. Iniziamo con la Nazione Grifo, resta tutto fermo fino alla Covisoc. Ora Santo Padre aspetta la categoria. In caso di Serie C avanza la categoria di Giulia Relli come di esse. In caso di rammissione i giocatori più richiesti non potrebbero essere ceduti. Tutti pazzi per il Lecco, poi però ci sono le regole per quanto riguarda il caso. L'incontro, Guarda Scione è pronto a rilevare il club. Le tappe della speranza, il 30 la commissione, il 7 invece ci sarà il consiglio. Riconoscimento, il rota riprema Fabrizio Castori. Per quanto riguarda la Ternana, cessione della Ternana e la volata finale, due gruppi in lizza per prendere la società. Entro un paio di giorni le attese le decisioni e la firma per il passaggio di proprietà. Mancano mercato in uscita, il Parma va con forza su Partipilo. La Sir Perugia celebra sotto le stelle Supercoppa e Mondiale per club. Intanto il Cittadini va a Falegnami e Valdambrini. Nestor presi Mancini e Paradisi, colpo del lama. Per quanto riguarda invece il messaggero, sempre ripartendo dal grifo, contatto e trattativa. Il presidente Santo Padre ha incontrato l'imprenditore Guarda Scione interessato all'acquisto del club. Rebus Iscrizioni, la lega favorevole al via libera. Lecco il Perugia ha, dalla sua le regole e sul format del campionato. Gubbio, Pietro, Alessi, secondo in RSK. La grinta di Francesco, lo sport vince sempre. La promozione in comune a Foligno, mentre a Bevagna si gioca con le freccette. Arriva il campionato italiano a squadre. Equitazione, Costanza e la liccia, sempre più in alto. Terzo posto in Francia sui 160 chilometri. Passiamo poi alla Ternana. In vendita sono due le offerte. L'ex presidente Bandecchi ha deciso di cedere la società entro dieci giorni. Mi sembra ormai avere l'idea di chiare sui gruppi che si sono fatti avanti. Nella parte alta, Narnese, Marco Laureti, il nuovo preparatore atletico. Dopo l'addio di Stefano Pace, la scelta è stata fatta in casa. Torneo Frustalupi, Orvietana su tutti. Ed eccoci qua, presente alla preparazione, Francesco Nasi, nipote dell'ex giocatore orvietano. E con questa notizia termina qui il TG Mattina. Grazie per essere stati con noi. Noi vi aspettiamo agli altri appuntamenti informativi. Buona giornata. Grazie a tutti.